Poi vieni qua e fanno una ghiacchierata, tipo, fermiamo... Ma... ma... Eh... Davide, spettacolo... Eh... Continua perché tanto ne dico vari! Eh... Bravo! Boh! No, ma te che? No, no! Sì, voglio rifarvi un ingrato, grazie! No, no! Ne ho fatto uno in più! Come va, no? Ok! No, no! 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 Grazie a tutti